Musica Benvenuti a questa prima edizione del TG Sport di Telemolise che apriamo parlando del campo basso ieri è arrivata l'ufficialità dell'esonero di Foglia Manzillo abbiamo raggiunto telefonicamente proprio l'ex allenatore del campo basso Antonio Foglia Manzillo, allora ex allenatore del campo basso da ieri lo abbiamo detto, paghi la panchina evidentemente non per i risultati quanto per una riconducibilità ai due direttori di missionari credo che la cosa ti lasci la mano in bocca Essere chiamato ex allenatore del campo basso chiaramente fa male fa male perché ho passato tre mesi assolutamente fantastici nella vostra bella città ho conosciuto persone straordinarie ho conosciuto calciatori straordinari che si sono messi a mia completa disposizione per cui chiaramente adesso brucia ancora dispiace perché chiaramente è ancora fresco l'esonero ad ogni modo approfittavo di questo intervento per ringraziare chiaramente coloro i quali sono stati al mio fianco in questa breve avventura salutare i tifosi del campo basso che sono stati straordinari nei miei confronti e nei confronti dei ragazzi non dimenticherò mai la giornata di Agnone è uno dei ricordi che conserverò che mi sarà d'aiuto quando magari avrò momenti tristi accenderò il computer e mi rivedrò quelle immagini sicuramente mi faranno molto bene ringrazio amici che ho conosciuto a campo basso e niente oltre a ringraziare i vecchi dirigenti ringrazio anche i nuovi e faccio loro un grandissimo in bocca al lupo per il futuro mi auguro che il campo basso possa arrivare in Lega Pro certo, questo ti fa onore in generale possiamo dire che nelle 11 giornate dove il campo basso è stato guidato da te in panchina sostanzialmente si è fatto il massimo nel senso che questi 22 punti sono l'espressione del valore della squadra magari potrebbero mancarne due all'appello quelli contro il San Nicolò ma sostanzialmente la squadra ha espresso il suo valore ma diciamo che noi abbiamo iniziato il 26 di luglio con ricordo del Duca, la Niena e 20 ragazzi molti dei quali anche in prova la squadra è stata costruita con un pochettino di ritardo perché quando c'è un cambio di proprietà i ritardi sono fisiologici abbiamo passato due turni di Coppa Italia fuori casa non semplici da superare e poi abbiamo fatto un percorso secondo me importante in campionato con due partite recuperate da 0 a 1 quattro vittore esterne seconda miglior difesa quindi nel complesso credo che i ragazzi abbiano fatto stiano rispondendo alla grandissima volevo fare in conclusione di questa intervista un in bocca al lupo a te Antonio Foglia Manzillo ti ho conosciuto in questi tre mesi sei stato e sei un professionista sicuramente equilibrato misurato mai una parola fuori posto e conserverò appunto senza voler scadere in un'intervista troppo patetica ma conserverò un bellissimo ricordo proprio della persona e dell'allenatore Antonio Foglia Manzillo No, io ringrazio voi per la professionalità con cui mi avete accompagnato perché vi ho seguito dal primo servizio fino all'ultimo quando ci sono state le critiche giuste sono state critiche professionali senza infierire sui ragazzi o magari sul sottoscritto quando c'è professionalità va tutto bene si accetta anche la critica per cui ho approfittato di questo intervento ripeto per salutare poi soprattutto la gente di Campobasso e la tifoseria e ripeto faccio un grossissimo in bocca al lupo all'attuale società perché merita il tifoso del Campobasso merita palcoscenici importanti sempre a proposito della squadra rosso-blu dobbiamo dire che i ragazzi si stanno allenando agli ordini del nuovo tecnico Giovanni Masecchia domani pomeriggio alle ore 17.30 verrà presentato il nuovo quadro dirigenziale nel corso di una conferenza stampa dopo la tempesta la quiete il Campobasso ha siglato un accordo di sponsorizzazione con il pastificio La Molisana azienda di caratura internazionale che qualche piccola critica l'aveva subita nel capoluogo per aver spostato d'estate le sue attenzioni verso il Benevento fresco di promozione nella massima serie i fatti evidentemente hanno dimostrato che c'è un vivo attaccamento anche alla causa del Campobasso la città dove l'azienda opera ed ha la sede principale il Campobasso come società non molla anzi rilancia poco spazio all'immaginazione dopo le parole di uno dei presidenti Danilo Leone confermate le velleità di vittoria del campionato nonostante uno scossone non indifferente quello che ha portato alle dimissioni di Turi e Pavarese all'esonero di Foglia Manzillo il tutto dopo un bel successo in quel di San Marino se è facile farsi una ragione della rivederci ai due direttori il commiato al tecnico che stava facendo bene potrebbe essere teoricamente un elemento destabilizzante per la squadra ma quello che affermiamo ovviamente è tutto da verificare insieme con Foglia Manzillo sono stati sollevati dall'incarico anche il vice Cocchiarella ed il preparatore atletico in bilico rimane la figura dell'allenatore dei portieri che la società vorrebbe trattenere ma lui stesso non sarebbe così propenso alla permanenza il nuovo tecnico è Giovanni Masecchia nato 35 anni fa a Volla comune dell'Interland napoletano nella sua breve carriera c'è da annotare la guida tecnica del Savoia del Campania e lo scorso anno del Graniano in serie D amante del 4-3-3 che ha già sperimentato ieri nel corso del primo allenamento con il Campobasso da domenica vedremo una squadra diversa quantomeno dal punto di vista tattico ricordiamo che Foglia Manzillo nelle 11 partite alla guida della squadra Rosso Blu aveva sempre usato il 3-5-2 domani pomeriggio conferenza stampa di presentazione del nuovo staff Rosso Blu alle 17.30 la società attraverso un comunicato ha già anticipato le decisioni prese il direttore generale sarà il commercialista Claudio Buono il direttore sportivo Minadeo la conferenza sarà tenuta dai presidenti De Lucia e Leone alla presenza pure del segretario Massimo Savoia e del neo team manager Ciro D'Antonio a seguito delle dimissioni degli ex direttori la società non solo ha rilanciato le proprie ambizioni ma ha anche adottato delle decisioni in discontinuità con quelle prese da Turi e Pavarese ad inizio stagione vedi la riapertura al pubblico della tribuna centrale una contrazione dei prezzi dei biglietti per gli under 16 e le donne e l'abolizione di un euro aggiuntivo sulla prevendita oltre alla possibilità di vendere bevande in curva nord in tutto ciò c'è da dire che domenica si gioca contro un Avezzano in buona salute spettacolare il gol dell'attaccante degli abruzzesi Dos Santos che alla mezz'ora del primo tempo percorre 60 metri palla al piede prima di bucare il portiere Aquilano la partita finirà poi uno a uno pareggio ospite ad opera di Rucci a 5 minuti dalla fine l'Olimpia agnonese prepara la gara interna contro il Pineto per i 90 minuti delle civitelle torneranno a disposizione Barbosa e Rullo che hanno scontato il loro debito con la giustizia sportiva fermo ancora in infermeria fra botta per una frattura alle costole che lo lascerà fuori dal campo per qualche altra settimana calcio di eccellenza in campo per l'andata dei quarti della Coppa Italia regionale Frentania Olimpia Riccia il Venafro in campo con il Treppini Matese a Piedimonte Matese si gioca Alife Guglionesi per finire il Vulcania sta ospitando il Vasto Girardi niente turno infrasettimanale per l'Isernia che è stata eliminata proprio dal Vulcania e domenica quindi la squadra si sta preparando per il big match contro il Vasto Girardi in programma Isernia proprio domenica prossima Mister Fabio Di Rienzo tre punti d'oro ma quanta sofferenza per i seri si sapevamo la difficoltà della gara è un campo difficile era una partita sentita soprattutto sottolineo un campo difficile sotto tutti gli aspetti giocare a calcio oggi su questo Mantelboso era davvero difficile siamo stati bravi a soffrire e a sbloccarla nella ripresa l'uomo in più sicuramente vi ha agevolato però qual è stata l'arma vincente per la sua squadra? ma penso che oggi siamo stati intelligenti ho visto una squadra intelligente che anche con il passare dei minuti non si è fatta prendere dalla frenesia ha usato la testa e al 68esimo siamo riusciti a sbloccarla potevamo cadere nel tranello di farci prendere un po' dalla fretta e sbagliare determinate giocate non è stato così ci teniamo stretti questi tre punti sperando che tutte le squadre che vengono a giocare su questo campo incontrino la stessa squadra che ho visto oggi lo stesso Boiano nel prossimo incontro ci sarà il big match con il Vasso Girardi tappa fondamentale verso quello che è il vostro obiettivo tornare in D ma sì noi la prepariamo come ogni settimana con lo staff e la squadra sta facendo un ottimo lavoro sfido chiunque ha detto ai lavori a immaginarsi un Isernia più 4 allo scontro diretto comunque vada domenica sera resteremo primi in classifica questa ci dà tanta tranquillità Reduce dal KO con il Vulcani allo Spinete si prepara per la sfida in casa del Sesto Campano Cosimo Torrago allenatore dello Spinete una partita di cui ha colpito anche la sfortuna ma forse l'errore di attaccare solo gli ultimi 20 minuti così bene diciamo che delle ultime partite soprattutto dopo Vasto Girardi è stata la partita dove abbiamo avuto più contenuti sotto l'aspetto tecnico sotto l'aspetto del risultato se guardo il risultato sono molto deluso però per quello che abbiamo fatto è stata la partita più bella e la partita dove strameritavamo di fare non dico un risultato pieno ma quantomeno un pari già ci stava stretto poi a dir poco perdere anche una gara in questo modo dove non abbiamo subito nessun tiro in porte e dove diciamo nell'unica occasione dove c'è stato un infortunio che può succedere però questo ci deve far riflettere che le partite vanno condotte con grande personalità e nel momento in cui capitano le azioni vedi i primi 10 minuti ben tre chiare occasioni da gol dai 5 metri non abbiamo finalizzato ma non bisogna discriminare il reparto offensivo ma bensì saper leggere le partite e avere la giusta determinazione per fare la gara tutto qua al primo tempo si sono visti alcuni errori individuali sono dovuti forse alla stanchezza no stanchezza non credo perché li vedo durante la settimana si allenano bene grandi applicazioni poi monitoriamo spesso questo singolarmente può succedere che un elemento o due possa avere un calo ma soprattutto di interpretazione perché molti di questi non hanno ancora la personalità qualche giovane ci sta però a me è piaciuta molto la squadra è un paradosso parlare bene quando si perde ma se io devo guardare la prestazione di singoli e di squadra anche di concetti a me è piaciuta molto certo dover rammaricarmi del risultato sono amareggiato e posso solo dire che ci deve far riflettere perché siamo una squadra che si deve salvare e vorrei vedere più personalità altrimenti non andiamo da nessuna parte Atletica domenica a Campobasso in programma la 44esima edizione della Sue Giù la gara podistica amatoriale organizzata dal gruppo sportivo Virtus che prevede un percorso di circa 8 chilometri con ritrovo alle ore 9.30 e start mezz'ora più tardi siamo al Burraco 221 partecipanti al terzo torneo di Burraco città di Campobasso ai nostri microfoni il direttore di gara Antimo Mazza direttore di gara del terzo torneo nazionale città di Campobasso ospirato qui nel capologo di regione una due giorni intensa fatta di di gioco ma soprattutto di confronto e di divertimento aggiungere io perché è per il terzo anno che veniamo qui a Campobasso grazie all'iniziativa del presidente dell'associazione Burraco Molise Pino Apetta che ha avuto io direi il coraggio tre anni fa di organizzare un torneo nazionale in una zona che effettivamente dalla nostra federazione non è abbastanza coperta però lei nonostante questo ha voluto rischiare di organizzare un torneo nazionale e devo dire che i risultati di anno in anno gli danno ragione quest'anno abbiamo raggiunto la quota di 53 tavoli che non è poco se noi poi pensiamo che in contemporanea ci sono i campionati italiani di un'altra federazione e in più un altro torneo nazionale della nostra federazione che si è svolto proprio nei giorni insieme al torneo di Campobasso quindi questo risultato raggiunto in questa terza edizione assume un valore ancora maggiore il suo ruolo quello comunque di mantenere diciamo un certo ordine in sala perché poi c'è quella sana competizione però sì perché qui tutti vengono per divertirsi tutti vengono per giocare perché vogliono stare insieme però fuori dal tavolo dal gioco sono tutte persone amabilissime molto quando si siedono al tavolo dal gioco purtroppo molti di loro si trasformano e allora stanno noi arbitri cercare di comunque riuscire a mantenere un ambiente sereno non litigioso certe volte ci riusciamo certe volte un po' meno il movimento in generale italiano com'è? come sta crescendo? perché comunque si avvicinano anche qualche giovane si avvicina sì questo è un dato effettivamente molto confortante noi la settimana scorsa siamo stati a Riccione dove ci sono stati i campionati italiani della Fibur a squadre abbiamo battuto forse il record da sempre da vent'anni perché ci sono stati circa 240 tavoli 238 forse con gente che è arrivata da tutte le parti d'Italia dalla Sicilia dalla Sardegna questa volta una ventina di presenze che mai si erano viste ai campionati italiani e ma poi dal sud Italia dal centro sud dal centro nord e chiaramente dal nord quindi è un movimento che per quanto riguarda la nostra federazione sta crescendo ma in generale da un po' di anni a questa parte oltre alla Fibur ci sono altre federazioni o pseudo federazioni e devo dire che il movimento in generale del Burraco che io definisco un fenomeno sociale in quanto a Riccione la settimana scorsa è riuscita a riunire e far coinvolgere persone che arrivano da tutta Italia io lo definirei un fenomeno sociale basket di serie B dopo il K.O. con la capolista Luis Roma il Globo Isernia è tornato ad allenarsi in vista del secondo impegno consecutivo al Palafraraccio domenica arriva la Stella Azzurra Fabio Riccio nota positiva perso di poco con la prima della classe nota negativa? nota negativa questa era l'unica la vittoria dovevamo vincere sapevamo che erano primi che erano buoni ci abbiamo messo tutto veramente purtroppo si può vincere e si può perdere come hai visto la Luis in Gap? la Luis è una buonissima squadra ma lo sapevamo sapevamo che era composta da ottimi giocatori ottimi lunghi ottimi esterni siamo riusciti in parte a limitarli ma non è bastato approccio sbagliato visto i 13 punti di svantaggio iniziali? approccio sicuramente sbagliato la parte nostra sono stati bravi anche loro a punirci su ogni piccola disattenzione difensiva sono stati più meriti loro che dei meriti nostri secondo me noi abbiamo lottato veramente abbiamo lottato e abbiamo fatto sudare veramente le cosiddette sette camice certo per essere la prima in classifica sembrava che non ci fosse più o meno quel dislivello così esagerato sì diciamo che i valori in campo erano differenti noi abbiamo sopperito con la mancanza di tecnica con l'agonismo con la voglia di difendere di aiutarci l'uno con l'altro la strada secondo me è quella giusta nel senso noi dobbiamo continuare a giocare in questo modo perché avremo sicuramente molte difficoltà anche contro le altre squadre che sono maggiormente attrezzate Antonicelli Domenico il pressing iniziale della prima in classifica è stato un po' fatale poi come avete fatto a recuperare? abbiamo pagato il break abbiamo avuto un approccio alla gara così così però poi la voglia che mettiamo sempre in campo la difesa ci hanno aiutato abbiamo fatto un secondo quarto veramente buono 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 da prima in classifica secondo te quali sono stati gli errori individuali da parte dei tuoi compagni? abbiamo pagato magari la troppa voglia nel recuperare singolarmente lo svantaggio iniziale ci ha portato magari qualche palla per se di troppo 12 nel primo quarto poi piano piano abbiamo aggiustato le cose abbiamo saputo dove colpire l'altra squadra purtroppo una squadra così giovane che tiene testa una chiaramente uno dei cannonieri di questo campionato come vi sentite? sì l'abbiamo preparata bene durante la settimana non abbiamo pensato all'altro sapevamo che andavamo ad affrontare penso che a parte la sconfitta abbiamo fatto un'ottima prestazione questa prestazione si dovrà ripetere anche durante la partita la prossima di campionato ovviamente ci proveremo a vincere finalmente proveremo a tornare alla vittoria in casa affrontiamo stella azzurra speriamo bene minibasket prima uscita stagionale per la formazione esordienti del Cus Molise protagonista domenica al torneo nazionale minibasket di Corato la manifestazione che ha visto la partecipazione dei centri minibasket provenienti da più regioni d'Italia ha avuto un gran successo non solo numerico ma anche dal punto di vista del confronto tra le varie realtà italiane che si sono incontrate in terra pugliese soddisfatto il responsabile Mario Greco passiamo al futsal calcio a 5 di serie B il CLN Cus Molise sabato torna in campo per il campionato contro il Manfredonia formazione già affrontata e superata in Coppa Italia nel post partita di una gara epica vinta a 32 secondi dalla fine 3 a 4 e spugnata canosa siamo con l'uomo partita man of the match doppietta per te la seconda doppietta consecutiva Re Leone Leo Melfi come è andata la gara ma che partita è stata una gara molto difficile ce l'aspettavamo sapevamo il canosa è sempre un campo ostico alla fine siamo riusciti a vincere anche se a due minuti e mezzo dalla fine perdevamo 3 a 2 quindi siamo riusciti a ribattarla molte volte molte volte non capita questo nel calcio a 5 quindi siamo stati bravi rientri in formissimo ovviamente dopo un infortunio che ti ha tenuto un po' lì al limite stai cercando di recuperare la condizione migliore oggi si può dire che un po' hai ritrovato la testa quella che un po' forse non dico che ti mancava ma che comunque forse stavi cercando di recuperare anche quella per ottenere le prestazioni migliori sei d'accordo? sì vabbè quando non ci sono le gambe la testa magari vuole fare ma purtroppo le gambe non vanno adesso l'importante è continuare a tenere continuità comunque nei risultati a tenere continuità nella forma fisica a continuare ad allenare e pensare a stare al meglio seconda vittoria consecutiva la terza vittoria consecutiva se poi consideriamo anche quella contro la Coppa Italia dove può arrivare questo CLN-Cus Molise? guarda per il momento non ti so dire dal mio punto di vista siamo ancora una squadra che si sta piano piano finendo di amalgamare e con i risultati che ho sentito di oggi comunque la classifica si è accorciata siamo lì in mezzo 5-6 squadre è un campionato equilibratissimo la prima può perdere contro l'ultima come si è verificato quindi stiamo a vedere noi cerchiamo di metterci del nostro ogni partita partita dopo partita e vediamo a fine anno tireremo le somme un'ultima battuta la settimana prossima affrontiamo in casa il Manfredonia vuoi fare un appello al pubblico chiaramente di campo basso nella speranza che possa venire a seguirvi in gran numero e poi possa essere soprattutto più rumoroso ma si sa che in una città il pubblico ti segue se crea entusiasmo siamo partiti non male però così così adesso ci stiamo riprendendo tre vittorie di fila compresa la Coppa speriamo di fare bene anche con il Manfredonia il pubblico e l'atmosfera bella intorno a noi si creerà la strada facendo ne sono sicuro contro la capolista Ortona terzo risultato utile consecutivo della Chaminade oggi a meno due proprio dagli abruzzesi Paolo Pizzuto vittoria ineccepibile contro la capolista abbiamo detto anche con altri giocatori con Michelino Maro sarebbe stato ingiusto l'uno a uno il risultato del campo è sempre quello che dobbiamo accettare in questo caso premia gli sforzi la voglia di lottare fino alla fine quindi lo prendiamo lo accettiamo con grande soddisfazione e siamo contenti anche di aver finalmente sbloccato la casella delle vittorie in casa e quindi abbiamo anche dato una gioia alle persone che sono venute a seguirci con entusiasmo Ecco subito il gol dopo praticamente quattro minuti effettivi siete stati sempre in partita cioè non c'è stato un momento un calo di flessione avete rischiato il giusto perché di fronte si aveva la capolista però praticamente avete abbassato la testa avete offeso avete difeso insomma c'è stata sempre una partita da parte della Chaminade di grande intensità secondo me Assolutamente sono d'accordo con te da questo punto di vista così come a Cassano la gestione della partita la presenza nel corso di tutta la durata è stata diciamo ineccepibile fondamentale per portare a casa il risultato quindi da questo punto di vista la squadra è cresciuta perché nelle altre occasioni in cui siamo andati in difficoltà la squadra ha perso un po' di orientamento e di fiducia invece oggi ha saputo crederci e essere presente fino all'ultimo secondo a differenza dell'anno scorso quando era anche un'altra Chaminade inizio molto positivo di campionato 10 punti in 5 partite una media di 2 punti a partita avete gettato le basi per sicuramente un buon campionato sì i risultati pagano in questo momento ripagano delle scelte fatte all'inizio degli innesti in questa squadra che portano sicuramente molta qualità e quindi siamo consapevoli di avere una buona rosa a disposizione da qui a pensare che possiamo spadroneggiare nel girone assolutamente no bisogna come oggi lottare in tutte le partite perché le insidie sono su ogni campo e quindi siamo consci che bisogna sempre lavorare guardare le cose positive e cercare di correggere gli errori che comunque saranno presenti nelle successive partite sitting volley nell'europeo maschile in corso di svolgimento a Porec oggi la nazionale italiana sarà in campo contro la Polonia primo servizio alle 17.30 i ragazzi di Fracascia quota 0 punti in classifica si giocano la qualificazione calcio di prima categoria girone C pronto riscatto della polisportiva Fortore dopo il K.O. con la Turris è arrivato il successo netto contro il Porto Cannone Pablo Circelli capitano della polisportiva Fortore dovevate rispondere sul campo alla sconfitta con la Turris lo avete fatto vincendo 6 a 0 con il Porto Cannone sicuramente per noi la sconfitta è stata abbastanza dolorosa visto che è arrivata poi al 95esimo non ce l'aspettavamo però abbiamo reagito bene penso che abbiamo giocato prima il mercoledì abbiamo giocato in Coppa una bella partita e oggi abbiamo dimostrato che siamo in forma che è stato un caso la sconfitta di domenica scorsa è un campionato sicuramente molto competitivo molto difficile ma la vostra scuola ha dimostrato di esserci gioca e diverte soprattutto quando giochi in casa sì diciamo che il vantaggio casa per noi è notevole noi siamo bravi sul sintetico facciamo un po' fatica sui campi irregolari però ci proviamo ci mettiamo la grinta i punti di forza della vostra scuola sono moltiplici attaccate bene sugli esterni gli inserimenti dei difensori da dietro oggi doppietta di telegrama quindi una squadra che può far male in qualsiasi momento agli avversari sicuramente diciamo che anche la difesa fa gol nella nostra squadra non sono soltanto gli attaccanti ma anche i difensori e i centrocampisti e infatti oggi ha segnato anche Riccardi che è uno che segna costantemente facciamo entrambi le fasi bene però difensivamente secondo me siamo più bravi dobbiamo migliorare in attacco un campionato dicevamo molto avvincente che idea ti sei fatto finora delle rivali nonostante le larghe vittorie secondo me non ci stanno partite facili abbiamo degli avversari veramente bravi la Turris l'ha dimostrato noi abbiamo vinto anche una partita contro il Machiaval Fortore che secondo me non è una squadra semplice da affrontare abbiamo vinto perché abbiamo avuto fortuna diciamo la verità e niente gli altri avversari ancora non li conosciamo diciamo che siamo nuovi quindi vediamo soprattutto col girone perché sono tutti dell'azione di Termo non conosciamo quasi nessuno quindi vedremo vedremo andando avanti vedremo Bene era l'ultimo contributo per questa edizione del TG Sport di Telemolise grazie per l'attenzione a voi tutti buon pomeriggio